Il 18 marzo l'Italia ricorda le vittime del coronavirus, un tributo altissimo pagato anche dalla Toscana e dal territorio aretino. 100.000 in tutta Italia, 5.000 in Toscana. Ad un anno di distanza la situazione non è di certo migliorata, anzi, in queste ore l'ospedale San Donato di Arezzo è in grande difficoltà sul fronte ai vaccini. Non ci sono buone notizie, a poche ore dall'attivazione del portale per la prenotazione dei cosiddetti soggetti superfragili, al momento non ci sono certezze su quando saranno vaccinati. L'augurio, visto che oggi è la giornata che ricorda le vittime del covid, che i tempi si stringano e i vaccini arrivino, altrimenti il tributo è facile pensare sia destinato a salire. Arezzo domenica prossima inaugurerà un monumento. Anche noi vorremmo ricordare e star vicino a tutte le famiglie di questi defunti e soprattutto di tutte le famiglie che hanno sofferto questo sacrificio di questa mancanza. Abbiamo pensato di lasciare un simbolo, lasciare un simbolo che verrà scoperto domenica 21 alla presenza del presidente della regione Gianni e tantissime autorità. Grazie anche al sostegno di tantissime aziende retine come il Calcita Arezzo, la Saima, Fondazione Monalisa, Munaer, insomma tantissimi sponsor che ci hanno aiutato a contribuire ad avere un monumento per ricordare il sacrificio dall'inizio di questa pandemia.